Cosa ci manca rispetto ai francesi? Promozione internazionale non affidata a mille rivoli diversi, a mille canali diversi. Io alle sei e mezzo sono in Parlamento perché per la sesta volta, noi non siamo democratici, votiamo solo sei volte la riforma Costituzionale e poi c'è il referendum, votiamo una riforma Costituzionale che attribuisce allo Stato centrale e non alle regioni la promozione turistica e del made in Italy nel mondo. Non è possibile che si continui ad andare con i singoli uffici regionali, che si fanno la singola campagna, ma cosa ne sanno in Cina o nel Midwest della singola regione? C'è bisogno di un sistema italiano perché vi hanno raccontato che la riforma Costituzionale riguarda soltanto i senatori o il CNEL, vero, riguarda anche questo, ma dà finalmente allo Stato centrale questo potere che è sacrosante.